Gli hamburger sono un classico delle grigliate, ma noi ti svegliamo un segreto più sano che piacerà a grandi e piccini, il burger di salmone norvegese. Dividete il salmone norvegese in due parti. Sminuzzatene una delle due con un coltello. Unitela poi all'altra parte di salmone, che avrete precedentemente tritato in un mixer assieme ad un uovo. Aggiustate di sale, pepe e spezie a piacimento, per esempio peperoncino e ginger. Inumiditevi le mani nell'acqua prima di formare i burger di salmone norvegese, per evitare che si attacchino alle dita. Posizionate i burger tra due fogli di carta da forno, così diventa più facile disporli sulla griglia. Prima di iniziare a cuocerli però, mettete i burger di salmone norvegese a riposare in frigo per almeno 10 minuti. Poco prima di grigliare i burger, strofinate mezzo limone sulla griglia, per pulirla e evitare che i burger si attacchino. Grigliate i burger 4 minuti per lato circa. Ti consigliamo di servire i burger di salmone norvegese accompagnati da patate alla griglia. Deliziosi! Outro incontro